Buonasera, siamo con Andrea Pellegrino, appena finito il suo match, dopo quasi tre ore o poco meno, contro Delein Velasco, una partita molto intensa. Sensazioni di Andrea sulla partita? È stata una partita, come hai detto tu, molto dura, è durata due ore e mezza, difficile sin dal primo punto. Erano condizioni un po' complicate, molto vento, campo lento, quindi diciamo che i scambi erano sempre lunghi, il servizio non faceva tanta differenza, quindi è stata una partita combattuta dall'inizio alla fine, però sono contento di aver vinto. Sì, sicuramente tutti questi tornei sono una preparazione poi per il Roland Garros, che è il torneo più importante che c'è sulla terra, quindi sto cercando di giocare tanto, anche se ultimamente non ho vinto tante partite, però cerco di fare più partite possibili appunto per prendere il ritmo e poi dare il meglio a Parigi. In termini di classifica ovviamente è quello di avvicinarmi alla top 100, ci sono andato vicino una volta e vorrei cercare di entrarci per la prima volta. Questo per quanto riguarda la classifica, poi continuare a allenarmi e migliorare e fare sempre il massimo. Grazie. Grazie.